Vuoi scoprire i segreti del più grande ippodromo del mondo antico? E magari ripercorrere anche il tracciato di una vera e propria gara di carri? Seguimi in questa nuova puntata di Antico Archeologia e ti troverai faccia a faccia con le vere superstar sportive della Roma dei Cesari. Panem et Circenses. Così il poeta latino giovenale sintetizza la brama del popolo di Roma per le distribuzioni gratuiti di frumento e gli spettacoli del circo. Tra questi, quelle più amate dai romani, erano sicuramente le gare dei carri, corse sfrenate all'ultimo metro che portavano ai vincitori gloria, fama, ma anche smisurate ricchezze. Oggi siamo a Roma, all'interno del Circo Massimo. Una vasta area che appare come un abballamento spoglio, un luogo quasi dimenticato, ma che in passato è stato il più grande edificio per gli spettacoli, lo sport, di tutto il mondo antico. Mi rendo conto che sia davvero difficile da immaginare, ma questa, in antichità, era una struttura grandiosa, immensa, e costituiva uno dei centri principali della vita quotidiana a Roma, perché, proprio qui, si svolgevano le famosissime gare dei carri, uno degli spettacoli più atteso ed amato dai romani, un po' come il calcio ai giorni nostri. Questo tipo di competizioni erano già in uso presso i greci e gli etruschi, e i romani le ripresero da loro. Le prime attestazioni a Roma risalgono a Romolo. Stando alle fonti antiche, infatti, il primo re istituì nella valle Murcia, ossia la valle tra il Palatino e l'Aventino, dove oggi ci troviamo, la festa dei Consuaglia, in onore del Dio Consus, durante le quali avvenivano gare di carri e corse di cavalli. Proprio durante una di queste festività avvenne il noto Ratto delle Sabine. Se le corse dei carri inizialmente erano strettamente connesse con le festività religiose, con il passare del tempo acquisiranno però un risvolto principalmente politico. Infatti i magistrati e poi gli imperatori offrivano questo tipo di spettacoli per ottenere il consenso di tutti i cittadini e distrarre così il popolo di Roma dalle incommense politiche di allora. Uno degli spettacoli più grandi e complessi che un magistrato, un imperatore potesse mai offrire, erano proprio le corse dei carri, che potremmo paragonare benissimo alla Formula 1 dei giorni nostri. Le gare in età imperiale duravano un'intera giornata e avevano un numero variabile di corse a secondo degli anni in cui avvenivano. Sotto agosto erano 12, con Caligola divennero 24 e con Nerone e Domiziano ben oltre le 50. Variabili erano anche il numero dei carri che potevano correre a singola gara, se ne potevano vedere 4, 8 o perfino 12. Lo spettacolo era gratuito e si svolgeva a partire dalla mattina, ma già alle prime luci dell'alba la cavea, ossia lo spazio destinato agli spettatori, era gremita di persone. Un po' come accade oggi ai grandi festival musicali. Nel periodo dell'apice del suo splendore, il Circo Massimo era una struttura immensa, era lunga più di 600 metri e larga circa 200. Si presentava come un edificio a pianta rettangolare allungata, con uno dei due lati corti che presentava una curva molto accentuata. Ma per avere chiara l'idea di come dovesse apparire il Circo Massimo agli occhi di un cittadino romano all'inizio del IV secolo d.C., ci tornano utili tutta una serie di ricostruzioni 3D che troverete nell'arco di questa puntata. Queste sono state realizzate da History in 3D, di cui vi lascio qui sopra il link al canale YouTube e sotto in descrizione tutti i link relativi al progetto. Ma adesso andiamo a scoprire come si presentava questa struttura in passato. Come potete vedere, l'edificio, oltre a svilupparsi in lunghezza, si sviluppava sorprendentemente anche in altezza su tre livelli, di cui il più basso era ornato da magnifici portici dove erano sede alcune botteghe. Pensate che proprio da una di queste iniziò il terribile incendio che devastò Roma nel 64 d.C. Entrando all'interno della struttura, accediamo direttamente nell'arena, dove era disposta in posizione centrale la spina, ossia un basamento di forma rettangolare lungo circa 340 metri. Su questa struttura, pregievolmente rivestita di marmi preziosi, erano collocati tempietti, sacelli, statue di divinità, meccanismi particolari usati come contagiri, ma anche due grandiosi obelischi egizi. Uno collocato qui da Augusto nel X a.C., l'altro verso la metà del IV secolo d.C. dall'imperatore Costanzo II, e di conseguenza non presente in questa ricostruzione che fa riferimento ad un periodo seppur di poco precedente. All'estremità della spina, invece, erano collocate le mete, dei pilastri rastremati verso l'alto, la cui funzione era quella di delimitare internamente lo spazio delle corse. Purtroppo, oggigiorno, di tutta la magnificenza della spina del circo non rimane più nulla. Possiamo però comprendere dove fosse collocata seguendo una lunga striscia di terra rialzata rispetto al terreno circostante. Vedete? È quella dove mi trovo io in questo momento. Nel complesso, in età imperiale, il circo massimo poteva ospitare fino a circa 250.000 spettatori. Pensate, quasi un quarto della popolazione di Roma. Dovete quindi immaginare come questa città si dovesse svuotare durante questi spettacoli, che costituivano sicuramente un ottimo momento per socializzare, scommettere sui propri beniamini, ma anche per corteggiare le donne, come scrive Ovidio nella famosa Ars Amatoria. Qui, infatti, uomini e donne potevano sedere l'uno accanto all'altro, a differenza di quanto avveniva nel Colosseo, in cui c'era una vera e propria separazione in base al sesso. L'imperatore e la sua famiglia scendevano dal palazzo imperiale, che si trova alle mie spalle sul palatino, e si andavano a accomodare nel Pulvinar, la tribuna imperiale. Pensate che queste erano una delle rare apparizioni in pubblico dell'imperatore. Le corse dei carri erano precedute da una cerimonia di apertura, ossia la pompa Circensis. Questa era un'imponente processione che si snodava per Roma e terminava proprio qui, all'interno del Circo Massimo. Il corteo era costituito da sonatori, magistrati e cittadini illustri, e prevedeva anche il trasporto sull'ettigo e braccia di statue di divinità con i loro attributi. Ma il momento più atteso era sicuramente costituito dal passaggio dei protagonisti delle gare, ossia gli aurighi, che mandavano nettamente invisibilio le folle. Questi infatti erano considerati delle vere e proprie superstar dell'epoca, un po' come le stelle sportive dei nostri giorni. Ma chi erano questi campioni del Circo Massimo? E che volto avevano? Gli aurighi provenivano dagli strati sociali più bassi della popolazione. Erano prevalentemente schiavi, che se nel tempo dimostravano di possedere determinate abilità, potevano avere la fortuna di essere arruolati per gareggiare all'interno dei cerchi. Attraverso i loro successi avevano la possibilità di accumulare somme enormi di denaro e ottenere la libertà. L'elevato numero di vittorie significava anche l'acquisizione di un'immensa gloria e fama, che trasformava alcuni di questi uomini in veri e propri miti e leggende sportive dell'epoca. Uno di questi era sicuramente l'Amecus, il cui vero nome era Gaius Apuleius Diocles, un'auriga vissuto nel secondo secolo dopo Cristo che divenne celebre per la sua lunga carriera e l'elevato numero di vittorie ottenute. Delle ben oltre 4200 gare disputate ne vinse più di 1400. Ogni sua corsa costituiva l'evento principale della giornata e il motivo era legato alla spettacolarità con la quale otteneva i suoi successi. Infatti, Diocles aveva l'abilità di rimontare i propri avversari negli ultimi metri di gara, mandando così letteralmente in delirio le folle. Nonostante il mestiere dell'auriga fosse davvero pericoloso, quest'atleta ebbe una lunghissima carriera, si stima intorno ai 24 anni. In questo arco di tempo Diocles riuscì a mettere da parte un'immensa ricchezza, circa 36 milioni di sesterzi. Una cifra davvero da capogiro se pensate che per quel determinato periodo storico era sufficiente per l'acquisto dell'approvvigionamento annuale di grano per l'intera Roma o per pagare il salario dei soldati ordinari dell'impero romano per un quinto di anno. Per farvi un paragone con i tempi moderni dovete pensare che oggi per pagare gli stipendi delle forze armate americane per lo stesso periodo di tempo occorrerebbero circa 15 miliardi di dollari. In base a questi presupposti Diocles è l'atleta più pagato di tutti i tempi. Pensate che nemmeno gli introidi di Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Lebron James insieme potrebbero avvicinarsi minimamente alla cifra accumulata da quello che in passato era già definito come il campione degli aurighi. Incredibile, vero? Altra vera stella del Circo Massimo fu Flavius Corpus, uno schiavo di origine iberica che visse nel primo secolo dopo Cristo e che gareggiò sotto il regno di Domiziano. Costui era un atleta dalle incredibili abilità e riuscì a ottenere un numero maggiore di vittorie rispetto anche a Diocles. Pensate, vinse più di 2000 gare addirittura. La cosa incredibile è che ottenne questi successi in soli dieci anni di carriera. Per mezzo di esse divenne Libertus, ossia schiavo liberato e raggiunse molto velocemente alte vette di fama e di fortuna. Riuscì addirittura a divenire un oggetto di adorazione da parte del popolo romano. Purtroppo la sua fortuna non durò a lungo, morì infatti giovane all'età di soli 27 anni proprio durante una di queste competizioni. Naturalmente non sappiamo che aspetto avessero queste due superstar sportive dell'epoca, ma conosciamo i volti di alcuni dei loro colleghi. Queste immagini in particolare sono state riprese al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo alle Terme e proprio in questa stanza del museo abbiamo la possibilità di trovarci di fronte ai veri campioni del Circo Massimo. Sono in tutto sette splendidi dei ritratti di marmo che in base ad analisi stilistiche sappiamo che furono scolpite tra il regno di Nerone e quello di Adriano. Mi ho reso fermare però su una di queste che colpisce per il volto elegante, giovane, ma anche per la particolare capigliatura molto accurata. Dall'acconciatura si capisce che l'auriga ritratto appartenesse al periodo del regno di Domiziano e guarda caso proprio all'epoca in cui il nome di Scorpus era sulla bocca di tutti. Naturalmente ci rimane impossibile sapere chi fosse realmente questa persona, però sarebbe affascinante pensare di trovarci faccia a faccia ad uno dei più noti campioni del mondo antico. Pensate, è come se tra mille anni le persone si dovessero trovare di fronte ai ritratti di Schumacher, Senna oppure di Hamilton. Come piloti di Formula 1 anche questi aurighi professionisti chiamati in antichità agitatores correvano per delle scuderie chiamate fazioni. Queste erano distinguibili a distanza per i loro colori caratteristici da cui prendevano il nome. Queste fazioni o squadre sono rappresentate su quello che è una sorta di fermo immagine in pietra dell'epoca che possiamo trovare sempre nel Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo. Si tratta di un mosaico pavimentale proveniente da una villa romana nella valle di Baccano, una località nei pressi di Roma. Su questo fitto reticolato di piccolissime tessere sono rappresentati quattro righi con i propri cavalli. Ciascuno di essi rappresentavano la fazione di appartenenza. C'erano i verdi, i rossi, i bianchi e gli azzurri. Insomma, queste erano le quattro fazioni principali che gareggiavano nei circhi. Così come i piloti di Formula 1 indossano sempre un casco, guanti ed una tuta ignifuga per proteggersi, anche questi atleti prendevano delle precauzioni. Indossavano anche loro, come potete vedere, un caschetto, un corpetto di cuoio, protezioni alle gambe e perfino un pugnale. A cosa servisse esattamente questo oggetto? Lo scopriremo a breve. Ma ora entriamo nel vivo di una vera e propria gara nel mondo antico. La pista sulla quale sfrecciavano i carri non corrisponde al pieno di calpestia attuale, ma si trova ben oltre i 5 metri di profondità. Nel periodo di massimo splendore del circo la pista era larga 80 metri, lunga più di mezzo chilometro e pensate, la sua arena era circa 12 volte quella del Colosseo. Sorprendente, no? Ogni scuderia poteva gareggiare con un massimo di 3 carri condotti da un campione e due gregari. Questi avevano il compito di ostacolare gli avversari favorendo così la vittoria del proprio compagno di squadra. La gara terminava al completamento di 7 giri, i quali erano chiaramente segnalati attraverso due meccanismi visibili a tutti e disposti sulla spina centrale. Uno era costituito da 7 delfini in bronzo e l'altro da 7 uova in pietra, rispettivamente i simboli di Nettuno e dei Dioscori, divinità protettrici dei cavalli. Questi due meccanismi erano dotati di sistemi ingegnosi che permettevano a ciascuno di abbassare un singolo elemento al termine di ogni giro. I carri partivano da quelli che potremmo definire i box di partenza, ossia i carceres, i cui cancelli venivano alzati ad un determinato segnale che proveniva dalla tribuna d'onore dove sedeva il magistrato o l'imperatore. Da qui veniva lasciato cadere un panno chiamato in latino un mappa. Questo era il segnale di inizio gara ed i carri entravano sfrecciando nell'arena. Immaginatevi ora il buato assordante della folla. Nel primo tratto del rettilineo era d'obbligo che i carri mantenessero ciascuno la propria traiettoria senza andare a interferire però in quella degli altri. Ma già alla prima curva si poteva tagliare la strada guadagnando così più terreno possibile rispetto agli avversari. Immaginate quanto potesse aumentare la possibilità di scontrarsi. Le curve erano sicuramente la parte più pericolosa del tracciato infatti presso le mete accadevano frequentemente degli incidenti chiamati in antichità naufragi. Ogni gara per una riga poteva essere l'ultima infatti il naufragium era spesso fatale a questi atleti i quali oltre a reggere redini con la sola forza delle braccia dovevano mantenersi costantemente in equilibrio su dei mezzi leggerissimi. Questi carri non dovete immaginarveli però come quelli che avrete sicuramente visto in moltissimi film per esempio in Ben Hur quelli infatti avevano la balaustra alta che arrivava al petto ed erano molto più simili a dei carri da parata in realtà i veri e propri carri utilizzati per le gare erano dei veri e propri trabiccoli che avevano la balaustra bassa che arrivava a metà della coscia ed avevano a malapena il posto per una origa. Nonostante questi atleti fossero davvero ben preparati fisicamente era impensabile per loro reggere eredini con la sola forza delle braccia per la durata dell'intero percorso quindi come escamotage erano soliti legarsi direttamente intorno al corpo le eredini stesse. Questo però causava un ulteriore problema perché in caso di incidente gli aurighi non riuscivano a liberarsene immediatamente e finivano così per essere trascinati per tutta la lunghezza del percorso dai propri cavalli finché non sopraggiungeva la morte. Per aumentare le possibilità di salvezza quindi ogni auriga portava con sé un pugnale che veniva estratto in caso di necessità per recidere le eredini e di conseguenza salvarsi. I primi gli intermedi erano i giri in cui gli aurighi erano soliti studiarsi e quelli in cui bisognava dosare le forze dei cavalli per utilizzarli per lo sprint finale. In questi giri però gli spettatori potevano assistere a dei veri e propri trucchi del mestiere ossia delle manovre messe in atto dagli aurighi per ostacolare gli avversari. Si potevano infatti aprire i cavalli a ventaglio per occupare più spazio nella pista stringere i carri contro il muro o addirittura frustare i cavalli avversari per farli imbizzarrire. Ma non gli aurighi questo era severamente vietato a differenza di quanto si vede erroneamente nel film Ben Hur. Alla auriga vincitore spettava la gloria una corona dall'oro e un premio in denaro ma anche un posto nel cuore delle fanciulle e delle matrone romane. Purtroppo oggigiorno dell'antico splendore del Circo Massimo rimane ben poco e la sua fama appare oscurata da quella del Colosseo preso quotidianamente d'assalto da enormi masse di turisti. In realtà in passato era il contrario questo era il vero cuore pulsante degli spettacoli a Roma un luogo che non smetteva mai di sorprendere e che pensate visse più di mille anni. Infatti i primi lavori vennero fatti dai Tarquini i re etruschi di Roma e l'ultima gara si svolse per volere del re ostrogoto Totila nel 549 d.C. La puntata termina qui. Grazie per avermi seguito e alla prossima!